Piazzola per l'Eli Soccorso a San Salvatore di Cogono ha firmato l'accordo tra l'ASR4 del Tiguglio e il Comune di Cogono per la gestione e l'allestimento della piazzola destinata all'atterraggio di 1 e nottuno dei mezzi di Eli Soccorso collocate in via alla croce a San Salvatore di Cogono nelle vicinanze dell'ospedale di Lavagna. Tre mesi la durata prevista dei lavori cui seguirà la fase delle prove ed è con l'audio. E' stato firmato l'accordo di collaborazione tra l'ASR4 del Tiguglio e il Comune di Cogono per l'allestimento e la gestione e manutenzione della piazzola destinata all'atterraggio di 1 e nottuno dei mezzi di Eli Soccorso collocata a San Salvatore di Cogono in via alla croce rossa. Nelle vicinanze dell'ospedale di Lavagna, l'eli superficie si inserisce nel percorso di progressivo ulteriore potenziamento della rete di emergenza o urgenza territoriale del Tiguglio. Ampia circa 2.400 metri quadrati, l'area sarà sottoposta ai lavori di adeguamento secondo le direttive tecniche nazionali. Nello specifico si provvederà alla messa in sicurezza dello spazio circostante, alla segnaletica delle linee elettriche esistenti, al ripristino del fondo e alla marcatura della zona di atterraggio, alla illuminazione con fari a LED, al fine di consentire l'atterraggio dei mezzi di soccorso sia durante il giorno sia in condizioni di buio. Tre mesi la durata prevista dei lavori, a cui seguirà la fase delle prove dei collaudi. Secondo l'accordo stipulato, il Comune di Cogono metterà a disposizione l'area a titolo gratuito per la durata di 15 anni, impegnandosi alla gestione, al mantenimento e alla vigilanza della piazzola e della zona circostante. Sarà discussa a martedì prossimo la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti, firmata da tutti i consiglieri regionali di minoranza, ad eccezione di Sergio Rossetti di Azione. Totti è agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio. La data è stata decisa ieri pomeriggio dall'Ufficio Integrato di Presidenza. Martedì prossimo ci sarà dunque un consiglio regionale straordinario, visto che non era prevista seduta a pochi giorni dal voto per le elezioni europee e amministrative. Ieri mattina le opposizioni avevano abbandonato l'aula, mentre alcuni cittadini hanno manifestato per chiedere le dimissioni del governatore Ligure. Il comitato che si batte contro la realizzazione del depuratore incolmata a mare a Chiavari ha incontrato ieri il capigruppo del Consiglio regionale, l'assessore regionale al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone. Durante l'incontro Giampedrone ha spiegato che Regione Liguria non ha competenze in merito. Secondo quanto riferisce invece il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi, se verrà approvato un ordine del giorno in tal senso, Regione Liguria potrà solo far pressione sugli enti competenti, vale a dire i comuni di Chiavari, Arera e Egato. Il comitato che si batte contro la realizzazione del depuratore incolmata a mare a Chiavari ha incontrato ieri il capigruppo del Consiglio regionale, l'assessore regionale al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone. Durante l'incontro Giampedrone ha spiegato che Regione Liguria non ha competenze in merito. Secondo quanto riferisce invece il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi, se verrà approvato un ordine del giorno in tal senso, Regione Liguria potrà solo far pressione sugli enti competenti, vale a dire i comuni di Chiavari, Arera e Egato. Iniziano nuova campagna di censimento della popolazione residente a Chiavari in zone ad alto rischio inondazione sia per il torrente Rupinaro che per il fiume Entella e in area ad alto rischio incendi boschivi. A coordinare l'iniziativa alla protezione civile, lunedì 3 giugno, dunque i volontari della Croce Veda Chiavarese e del Radio Club Levante, accompagnati anche da alcuni studenti del liceo Marconi del Pino, daranno avvia ad una puntuale raccolta di dati relative agli abitanti e alle loro esigenze in relazione alla fragilità del territorio in caso di emergenza. In totale saranno 50 le persone coinvolte nel censimento che il comune di Chiavari, tramite l'ufficio di protezione civile, sta organizzando, spiega il comandante della polizia locale Fabio Lanata. Rappresenta un ulteriore strumento per la pianificazione delle emergenze ai fini di una rapida risposta. Invitiamo tutti i residenti nelle zone a rischio a partecipare attivamente, fornendo le informazioni richieste essenziali per la messa in campo di misure e di prevenzione efficaci. In programma, il prossimo mese, anche un'esercitazione interna agli uffici comunali per posti di comando. Viabilità, le gallerie tra Sestri Levante e Moneglia saranno chiuse al traffico veicolare dalle 22 alle 23.59 di domani, giovedì 30 maggio. Questo per consentire la manutenzione semestrale degli estintori presenti lungo la strada che collega la città dei Due Mari con il paese in mezzo alle due gallerie. Lo rende noto il comune di Sestri Levante che specifica anche che il transito sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di pulizia in emergenza in entrambi i sensi di marcia. Oggi a Sestri Levante ha preso il largo dallo stabilimento Fincantieri della frazione di Riva la dodicesima Frem, la Emilio Bianchi, destinata alla Marina Militare Italiana. La nuova unità della lunghezza di 149 metri e 6.500 tonnellate di peso a una complessa manovra è stata imbarcata sulla Chiatta Atlante, la stessa che ospitò il famoso concerto dei Pink Floyd a Venezia del 15 luglio 1989. Domani la nave militare raggiungerà il cantiere del Mugiano alla Spezia per iniziare le prove a mare. Nel 2023, quindi l'anno scorso, la raccolta differenziata a Recco ha toccato il 72% con un incremento di oltre due punti percentuali rispetto all'anno precedente, il 2022. Il trend positivo è dunque confermato come indicano i dati del censimento dei rifiuti di Regione Liguria che evidenziano un deciso aumento dei rifiuti correttamente differenziati. A tal proposito, il Comune di Recco commenta i dati sottolineando quanto fatto grazie soprattutto al contributo offerto dai cittadini di Recco.